Grazie signori, sono pronto per introdurvi l'ospite di questa sera direttamente da Zelig. Se posso faccio anche un pezzo di sigla, così la facciamo. Un pezzo di sigla. Signori e signori, un bel applauso per Stefano Bellani. Non ho la valletta per parlare. Grazie. Un bel applauso, grazie. Un applauso. Come va? Signori, facciamo un bel applauso a Stefano Bellani. La festa continua. La sera.